Eccellenza, questa conferenza sulla Trinità, origine, modello e fine di ogni realtà creata, ci riporta al dogma? Ci riporta sicuramente al dogma, però ci riporta al dogma prendendo sicura di spiegare che cos'è il dogma. Perché in genere, io poco fa sono stato con una professionista e mi diceva, io intervengo, voleva dire, io intervengo ma ci tengo a dire che la mia fede non è che sia molto chiara. E' onestissima, però mi ha detto, io intervengo, però intervengo da laica. Il dogma è l'accettazione di una verità che non hai partorito tu, che ti è data. Poi, naturalmente, si verifica che nello spirito di chi il dogma l'accetta, si verificano delle coincidenze, che sono coincidenze strane. Uso l'immagine che mi ha detto questa signora. Si parlava di una situazione. Dice, a un certo punto io sono stata presa da un dolore così grande, come se io, questo dolore, mi si fosse introiettato dentro, e fosse rimasto dentro nelle gabbie, così che io non ho potuto né elaborare in nessun modo il lutto, il dolore, né tantomeno io intravedo una via d'uscita che mi porti alla riscoperta di un senso. Io gli ho detto, ma guardi che questa è l'esperienza tipica di Gesù Cristo, perché è l'esperienza della teologia crucis, però sperimentata non da uno che ha parlato di croce, ma da uno che è stato crocefisso. E' la teologia della croce, la teologia dell'abbandono e dello sradicamento, che viene, come dire, viene vissuta da uno che pure si presenta a Dio. Quindi rimaniamo nel mistero e allora a quel punto si apre per noi il discorso del passaggio dal rifiuto all'invocazione o viceversa.